Altro ex grande Biancazzurro, il preparatore dei portieri Ferron, il collaboratore tattico Longo ed il professor Oneto che curerà la parte atletica del Delfino. Quasi certamente Bergodi potrà contare sull'apporto dei recuperati Terlizzi e Weiss. Lo slovaco oggi ha svolto lavoro differenziato ma domani pomeriggio sosterrà il test decisivo nella classica partitella del giovedì. Out Blasi e Colucci squalificati per un turno Cascione, Zanon e Capuano. La Roma di Zeman farà...